Nel 1968 è il vincitore del Festival di Castrocaro e incide il suo primo 45 giri con le canzoni Arrivederci di Umberto Bindi e per un bacio d'amor Nel 1969, con la canzone Perché l'hai fatto Scritta con Mino Reitano e il testo dalla giornalista Donata Giacchini Vende oltre 500.000 copie di 45 giri È finalista alla sesta edizione di un disco per l'estate a St. Vincent e partecipa al Cantagiro Dello stesso anno, inoltre vince la Reggia d'Oro di Caserta Manifestazione che raggruppa tutti i vincitori dei vari festival e rassegne musicali di quell'anno Ha partecipato a varie edizioni del Festival di Sanremo Nel 1970 con Ai, che male che mi fai Nel 1971, con I ragazzi come noi e nel 1992 con Io ti darò Nel 1970 è uno dei finalisti della gara musicale Sette Voci in Onda su Rai 1 Ideata e condotta da Pippo Baudo Nello stesso anno vince il Cantagiro con Mi Piaci da Morire Vince il premio della critica come migliore interprete Participando in rappresentanza per l'Italia Allo Yamaha Music Festival a Tokyo in Giappone Manifestazione alla quale, dal 20 al 22 novembre Hanno preso parte artisti in rappresentanza di 36 paesi Nel 1971, con la canzone Ora ridi con me Partecipa per la seconda volta a un disco per l'estate Piazzandosi tra i dodici finalisti Con la medesima canzone vince il Festival di Rieti e il Festival di Pesaro Nel 1971 con la canzone Cento lacrime Giù partecipa nuovamente a un disco per l'estate Nel 1977 rappresenta l'Italia all'Inter Festival in Bulgaria Manifestazione Canora che ancora una volta lo vede vincere il premio della critica con la canzone Amore scusami Nel 1982 con la canzone Ricominciare insieme partecipa nuovamente ad un disco per l'estate Nel 1989 la rivelazione della trasmissione televisiva di Canale 5 Una rotonda sul mare Gara canora tra le canzoni degli anni 60 alla quale partecipa con Perché l'hai fatto E nel corso della quale, battendo artisti come Gino Paoli, Peppino Di Capri e Jimmy Fontana Giunge davvero a Outsider alla finalissima L'anno successivo è nuovamente in gara la seconda edizione della medesima trasmissione Televisiva con Mi Piaci da Morire dove battendo Little Tony accede alle semifinali non riuscendo Però questa volta ad entrare tra i finalisti Nel 1997 al Teatro Goldoni di Venezia riceve il Leone d'Oro nell'ambito della quindicesimo edizione delle Festival della Musica Leggera Dal 1997 al 2006 è ospite in varie trasmissioni della RAI legate a Teleton Negli anni 1997-1998 l'autore e regista Michele Guardi lo chiama come voce solista per il programma di RAI 2i Fatti vostri Dove lanza e porta al successo il brano Quanto t'ho amato di Roberto Benigni Nel giugno del 1999, la TV di Stato Cubana lo invita a partecipare ad uno degli show televisivi più seguiti dell'isola Caraibica, in un periodo dove l'embargo imposto dall'America era ai massimi livelli Nel 2004 partecipa in qualità di ospite al concerto di fine anno su RAI 1 l'anno che verrà Condotto da Carlo Conti, dal 2005 è ospite ricorrente e opinionista nel programma di RAI 2 l'Italia sul 2 Nel 2005 partecipa al reality show Ritorno al presente condotto da Carlo Conti su RAI 1 in prima Serata Nel 2006 partecipa ancora in qualità di ospite al concerto di fine anno su RAI 1 l'anno che verrà Condotto da Conti, nel 2006 e 2007 è protagonista con altri interpreti nella trasmissione domenica in Sempre su RAI 1 Nel 2007, il 5 ottobre viene invitato in rappresentanza per l'Italia New York al Columbus Day con un Concerto tenutosi al Christ the King Auditorium Nel 2008 è protagonista nei programmi di RAI 1 i raccomandati e i migliori anni Nel 2009 partecipa in qualità di ospite al concerto di fine anno su RAI 1 l'anno che Verrà Condotto da Fabrizio Frizzi Nel 2010 partecipa nei programmi televisivi di RAI 1 i soliti ignoti La prova del cuoco, ciac, si canta, e alla trasmissione di fine anno l'anno che verrà Condotta da Mara Veniare e Pino Insegno Nel 2010, nel 2011 e nel 2012 Michele Guardi e Anna Maria Flora lo vogliono come inviato al Festival di Sanremo dove cura i collegamenti con gli ospiti partecipanti per la trasmissione Mezzogiorno in famiglia su RAI 2 Nel 2011 partecipa alla trasmissione Cristianità su RAI International in occasione della Beatificazione di Giovanni Paolo II Interpretando la canzone Ora Parlami d'amore da lui composta per l'occasione Nel 2012 partecipa costantemente come opinionista su RAI 2 alla trasmissione L'Italia sul 2 Condotta da Milo Infante e Lorena Bianchetti Nello stesso anno viene invitato per la terza volta in Canada a Niagara Falls, Toronto Per una serie di concerti nel teatro Casino Resort Falls View Nel dicembre del 2012 in occasione delle feste natalizie propone un CD singolo con la canzone Buon Natale a te, dedicata a tutti i bimbi del mondo Nel 2013 viene invitato ancora in Canada dall'emittente radio televisiva Kin Radio Come ospite in occasione del Valentine Day dove fa registrare il tutto esaurito nel Gran Galà Organizzato per l'occasione, grande successo riscuote anche a St. Martin nell'isola dominicana dei Caraibi Dove, per bene cinque concerti in uno dei più importanti casino dell'isola Il Royale, ottiene il sold out Dal 2014 ad oggi fa parte in qualità di giurato, selezionatore, presidente Delle giurie che selezionano cantanti, autori e da qualche anno anche cabarettisti ed imitatori Partecipanti al Festival delle Voci e Volti Nuovi di Castrocaro Terme Grazie a tutti